ciao dino di battista ha palesato su draghi il fatto che sia a favore delle privatizzazioni vedi la concessione ai benetton per autostrade che ne pensi sulla possibilità che possa essere lui il possibile premier questo mi scrive antonino grimaldi subito all'inizio di questa diretta adesso saluterò tutti e vi ricordo che sarebbe bene condividerle queste dirette adesso ne parliamo ma intanto rispondo subito ad antonino grimaldi caro antonino io penso che draghi nel suo passato anche recente abbia avuto delle responsabilità abbia fatto delle scelte che non condivido minimamente alcune più condivisibili altre totalmente non condivisibili fra le quali quella di gestire in un certo modo determinate privatizzazioni allo stesso tempo credo che oggi non stiamo votando su privatizzazioni al contrario oggi dobbiamo decidere se è meglio dire di no alla nascita di un governo draghi e quindi restare all'opposizione o andare al voto perché magari il nostro no comporterebbe un voto oppure se andare a stare dentro questo governo a influenzarlo attivamente a chiedere e possibilmente ottenere visto che siamo il primo la prima forza politica con più parlamentari con più deputati e con più senatori stando dentro potremmo non sicuro potremmo far sì che questo governo che arriva sia in continuità con il governo conte e faccia le cose che vuole il movimento 5 stelle questo è il punto il nodo è tutto lì non è tanto nel in quello che ha fatto draghi in passato perché se dobbiamo parlare di passato rispetto alle cose che aveva fatto salvini la lega il pd e leu sono tutte forze con le quali valutando il passato non avremmo mai dovuto fare un accordo sia chiaro buonasera a tutti oggi una diretta piuttosto breve saluto antonino prestileo esterina piai antonietta lingua grossa claudia cardinali non cardinale peccato perché è un'attrice che mi piaceva molto romina biondo cinzia casciano gianfranco d'amico manuela cernese e tanti di voi michelangelo di foggia stefania scottaloari eccetera ragazzi una diretta breve perché perché più tardi alle 21 farò un incontro su zoom con tantissimi centinaia e centinaia di attivisti che si sono iscritti ci tenevo molto perché oggi più che mai sarebbe il caso di incontrare gli attivisti salutano il frattempo a proposito di attivisti giovanni lanaglia che mi chiede dino tu cosa pensi meglio sì e meglio no giovanni adesso ne parliamo vi dicevo oggi più che mai sarebbe bene incontrare gli attivisti di persona per discutere di battere di quello che sta succedendo non possiamo farlo a causa del covid e quindi perlomeno ci parliamo tramite zoom tramite skype tramite la tecnologia saluto l'amico roberto cotti saluto tina carbonara eccetera attenzione prima di iniziare a discutere vi ricordo che sono contento se condividete se vorrete condividere anche questa diretta e tutti i contenuti di questa pagina sui vostri profili facebook sulle vostre pagine facebook sui vostri gruppi facebook e sulle chat le chat di messenger le chat di whatsapp le chat di telegram o altre che esistono magari di mezzi che io non conosco perché perché dobbiamo far circolare un'informazione sana e non possibilmente solo una voce allora la domanda daniela e carus saluta anche me immagino per una volta toni giordano e tutti gli altri ragazzi io saluto quelli che leggo perché siete tantissimi ne sono contento ma non è che posso fare duemila saluti allora ogni tanto compare un nome e riesco a salutarlo la i vostri commenti scorrono allora la domanda che tutti voi mi fate è caro dino sei per il sì o sei per il no io vi dico con molta onestà che credo ci siano ottime ragioni per il sì e ottime ragioni per il no questa è la verità la ragione per sì emanuele ne spiega poi mandami un whatsapp e poi ti giro il link ottime ragioni per il sì ottime ragioni per il no vi dico quali sono queste ragioni a mio modo di vedere partiamo dalle ragioni del no la ragione del no è quella di non unirsi a un governo dove c'è la possibilità che ci siano ministri di forza italia per esempio partito che noi abbiamo sempre avversato non unirsi a determinati personaggi penso a calenda e bonino non unirsi a un certo una certa parte politica che abbiamo sempre avversato e quindi restare all'opposizione oppure mandare l'italia al voto perché magari col nostro no non ci sarebbero i numeri questo ancora non lo sappiamo restare l'opposizione e come dire da quella parte pungolare il nascente governo draghi questa è un'ipotesi assolutamente degna io ho un dubbio molto forte su questo e ve lo esprimerò parlando di quelle che invece a mio parere sono le ragioni del sì quali sono le ragioni del sì sono due fondamentalmente la prima è quella di gestire in prima persona cioè essendo presenti dentro al governo i 209 miliardi di euro che abbiamo ottenuto noi giuseppe conte il lavoro del movimento 5 stelle in europa il voto per la von der leyen quei 209 miliardi di euro che una parte ha ottenuto voglio che a gestirla ci sia per gente per bene ci siano politici per bene e ho grande timore che in nostra assenza quei 209 miliardi di euro se li pappino diciamo così i soliti noti a proposito di questo vi do una notizia clamorosa per chi non lo sapesse la lega che aveva sempre votato contro il recovery plan che aveva attaccato questi 209 miliardi non li vogliamo salvini l'ho detto qualche giorno fa non li vogliamo prendere i prestiti dell'europa non li vogliamo oggi ha votato sì per i recovery e ha detto mi sta benissimo il recovery mi sta benissimo l'europa mi sta benissimo l'euro hanno cambiato idea in cinque minuti su tutto attenzione non è che hanno cambiato idea dicendo appoggiamo non appoggiamo cose che abbiamo fatto anche noi io sarei stato più prudente in determinate affermazioni ma va bene ma hanno cambiato idea sui singoli temi noi dino giarrusso il movimento 5 stelle europeo e italiano non cambia idea sui temi quindi una delle due ragioni per il sì abbiamo detto le ragioni del no una delle due ragioni per il sì è gestire in presenza i 209 miliardi di euro la seconda ragione per il sì è quella di come ha cercato di fare beppe grillo e vediamo se ci sarà riuscito e quanto è quella di influenzare in prima persona la politica generale del governo draghi reddito di cittadinanza si tiene si rafforza o viene tagliato se ci siamo noi si tiene se viene tagliato se non ci siamo noi penso che verrà tagliato il decreto la diciamo legge anticorruzione chiamata spazza corrotti una legge fortemente voluta dal movimento resisterà senza noi al governo la riforma della prescrizione per me una epocale riforma della quale ringrazio alfonso bonafede e tutti i parlamentari del movimento 5 stelle che l'hanno voluta e votata rimarrà la riforma della prescrizione oppure sarà cancellata se noi non andiamo al governo insomma tra le due ragioni possibili per votare sì ci sono quel queste due quella dei 209 miliardi di euro è quella di influenzare attivamente il nuovo governo perché il mio timore è che stando all'opposizione noi vedremo un governo draghi attrazione forza italia lega eccetera senza la nostra presenza che cancelli la riforma della prescrizione che tolga il reddito di cittadinanza cosa che hanno chiesto alcune forze politiche a partire proprio da forza italia che abbia che faccia una politica totalmente opposta alla nostra e che cancelli le nostre riforme felici riuscite fortunate come appunto quella riguardante il reddito e riguardante diverse misure anticorruzione ora non è che io abbia le idee chiarissime su questo perché è vero anche che dire di no significa anche come dire rifiutare a priori delle persone che abbiamo sempre contestato quindi io ritengo dignitosissima la scelta di chi dice no e ritengo dignitosissima la scelta di chi dice sì al momento non ho un'idea certa anche perché ve lo dico molto onestamente dobbiamo prima vedere quale sarà il quesito e dobbiamo capire che cosa ha promesso draghi ai nostri a vito crimi a beppe grillo ai nostri rappresentanti dobbiamo vedere le carte e adesso mi prendo cinque minuti amici o dieci non lo so per fare un discorso un po più ampio io non ne posso più l'ho scritto nell'introduzione di questa diretta io non ne posso più non ne posso più di leggere nelle nostre chat persone che dicono i veri attivisti sono quelli che votano no gli infiltrati sono quelli che votano sì o viceversa i veri attivisti sono quelli che votano sì gli infiltrati sono quelli che votano no amici ve lo dico in italiano schietto e perdonatemi se userò un'espressione volgare io mi sono rotto i coglioni io lavoro da due anni dalla mattina alla sera per il movimento 5 stelle e mi sono rotto i coglioni di sentire gente che possibilmente non fa una beata mazza dalla mattina alla sera se ne sta a casa sta lì sulla tastiera e dice chi è cattivo e chi è buono così non è non funziona così non va bene così non è democrazia questa non è democrazia questo è idolatria si idolatra un personaggio si idolatra un attivista un portavoce un nostro cazzo un ministro quello che volete voi e si dice lui ha sempre ragione gli altri hanno sempre torto questo ragazzi non ha niente a che fare né con il movimento 5 stelle né con la democrazia né con la democrazia diretta né con l'intelligenza l'intelligenza è ragionare la fede e non ragionare dire lui ha sempre ragione ma vi ricordo che chi diceva noi abbiamo sempre ragione era il fascismo e io sono antifascista antidittatura perché lo stalinismo è stata una dittatura forse addirittura più feroce di quella fascista e io sono contro le dittature e anche contro le dittature del pensiero è una dittatura del pensiero dire noi siamo quelli bravi buoni bravi e puri e quegli altri sono per forza cattivi e ripeto lo dico per un argomento sul quale non ho ancora la certezza ma ho la certezza che io sto ragionando su questo sto ragionando insieme a voi insieme agli attivisti sto ragionando insieme ad alcuni miei colleghi tra cui Castaldo tra cui Tiziana Beghin bravissimi e Mario Furore e Chiara Gemma e Rondinelli e Isabella Di Nolfi e Laura Ferrara le persone che lavorano dalla mattina alla sera e i parlamentari nazionali Luciano Cantone Luigi Iovino io mi sono sentito con tanti di loro con Tuzzi con con Fabrizio Trentacoste perché bisogna lavorare bisogna discutere bisogna ragionare non bisogna dire io ho la verità in tasca e vi dico come stanno le cose gli altri sono tutti delle merde questo non ha niente a che fare con la filosofia del movimento e se noi ragioniamo così ragioniamo da tifosi ammazziamo il movimento basta il tifo mi ha rotto il cazzo a me piace tantissimo tifare mi piace andare in curva io sono un tifoso del Catania come chi mi conosce sa mi sono fatto tutti gli stati d'Italia per fare le trasferte andare a vedere il mio Catania e tifavo per il Catania e magari se c'è un rigore contro il Catania dico che non c'è e se a favore dico che c'è perché sono tifoso ma quello è il calcio non è la politica non è la vita non possiamo decidere del futuro degli italiani con gli occhiali deformanti che hanno i tifosi io sono tifoso di calcio non posso essere tifoso di nessuno quando si tratta di scegliere fra appoggiare un governo Draghi con tutto quello che ne consegue in pandemia o non appoggiare un governo Draghi con tutto quello che ne consegue in piena pandemia vi prego vi prego vi invito a ragionare e a rispettare gli altri anche perché ve lo dico subito chi ci ha voluto ridurre così ha un nome e cognome e si chiama Matteo Renzi Matteo Renzi ha fatto questa maledetta crisi di governo con due obiettivi il primo era fare cadere Giuseppe Conte perché Giuseppe Conte che è una persona eccellente eccellente Matteo Renzi se lo voleva togliere di mezzo per non avere un concorrente quindi il primo punto è stato togliersi dal cavolo Giuseppe Conte e ci è riuscito il secondo il secondo punto del suo progetto malefico era quello di rovinare dilaniare dividere e possibilmente distruggere il movimento 5 stelle questo è il progetto di Renzi allora chiunque affronti le nostre cose con l'atteggiamento di dire io ho sempre ragione io sono fico gli altri no io sono pure gli altri no fa il gioco di Renzi non vi fate prendere per il culo qualcuno lo fa in buona fede qualcuno lo fa in mala fede ma sicuramente vi sta facendo del male ci stiamo facendo del male non esiste al mondo neanche dire o pensare chi la pensa come me è buono chi la pensa diversamente da me è cattivo impuro deve essere buttato fuori deve essere cancellato non è un vero grillino questo modo di ragionare è da scuola elementare oppure da curva dello stadio di calcio come abbiamo detto prima ora perché io mi incavolo e ho detto anche qualche parolaccia mi scuso ma chi se ne frega ogni tanto le parolacce fanno parte del gioco mi incavolo perché i giornali guarda caso ci sguazzano su questa cosa danno peso alle nostre divisioni non al nostro ragionare lo capite questo no lo capite che è fare il gioco dei giornali che ci hanno sempre odiato che ci vogliono morti dire beppe sparacazzate io sono il puro e quegli altri sono gli impuri questo è fare il gioco di Renzi e fare il gioco del dei media che ci odiano vi dirò di più vi dirò di più avete fatto caso che i traditori del movimento 5 stelle quelli che sono andati in altre forze politiche sono tutti molto schierati da una parte in questa vicenda perché sperano che il movimento 5 stelle fallisca non dovete andate a guardare cosa c'è dietro cosa è successo nell'ultimo anno negli ultimi sei mesi nell'ultimo anno perché mario giarrusso ha lasciato il movimento 5 stelle lui Gianluigi Paragone tutta una serie di deputati di senatori Ugo Grassi Emilio Carelli tanta gente ha lasciato il movimento 5 stelle e tanta gente gioca e butta benzina sul fuoco delle nostre divisioni allora amici no io non ci sto io a ragionare con voi ci sto ma a fare il gioco di Matteo Renzi no e francamente mi sono stufato perché c'è qualcuno che forse non se ne rende conto ma sta facendo esattamente il gioco di Matteo Renzi e di tutta quell'informazione marcia che gioca a dividerci io come sapete anche quando vado in tv fino a ieri sono stato dico sempre sempre la verità sul reddito di cittadinanza per esempio che ieri hanno fatto vedere come al solito che ha preso dei mafiosi hanno preso il reddito certo poi ci sono i mafiosi che hanno preso la pensione di invalidità poi ci sono dei corrotti all'interno degli ospedali italiani che hanno rubato milioni di euro pubblici alla sanità è un motivo per chiudere gli ospedali avete mai visto un servizio televisivo in cui si dice ospedali vale ancora la pena di tenerli aperti ecco questo primario che si è rubato i milioni ah allora chiudiamolo no e invece con reddito si fa reddito di cittadinanza o lo prende un mafioso allora togliamolo il reddito lo capite che vi fanno il fottuto lavaggio del cervello vi fanno il lavaggio del cervello raccontando una storia in un modo quando la potrebbero raccontare in un altro modo vi stanno facendo il lavaggio del cervello lo capite ve ne siete resi conto e noi se ci dividiamo anziché ragionare io posso non essere d'accordo c'erano amici miei con cui attivisti del movimento con cui su alcune cose non eravamo d'accordo c'erano quelli che non volevano fare il governo conte il governo conte 2 nel primo nel secondo e lo capisco che avevano le loro ragioni allo stesso tempo vorrei dire a loro io invece ero per fare i due governi conte vi voglio dire senza questi governi non avremmo avuto il reddito non avremmo avuto la spazia corrotti non avremmo avuto la prescrizione non avremmo avuto il taglio dei parlamentari non avremmo avuto il codice rosso non avremmo avuto il decreto dignità non avremmo avuto il taglio dei vitalizi non avremmo avuto un cazzo perché stando all'opposizione si diventa magari forti ci abbracciamo andiamo nelle strade ma stando sempre solo all'opposizione non si ottiene un cazzo è chiaro si può fare solo una battaglia politica civile importante ma la vita dei cittadini la qualità della vita dei cittadini l'abbiamo cambiata stando al governo ragazzi con quel salvini che che non mi piace per non dire altre parolacce e con quegli altri pd e renzi che mi piace ancora meno di salvini mi piace renzi è chiaro ma se noi non fossimo andati al governo con loro avremmo non avremmo ottenuto quello che abbiamo ottenuto è chiaro vi è chiara questa cosa aspettate un attimo perché devo fare una cosa una telefonata ultimamente mi arrivano le telefonate mentre sono in diretta e questa cosa qui sono sono in una diretta facebook ti posso chiamare fra 5 minuti che finisco 5 10 minuti ok grazie ciao grazie ciao allora cari amici che vivete sul pianeta plutone il reddito di cittadinanza lo spazio corrotti tutte le cose che abbiamo la riduzione dei parlamentari eccetera eccetera lo scrive anche antonio sampino quando li abbiamo fatti con chi li abbiamo fatti con gente che io non vorrei vedere nemmeno a cena perché io ve lo dico veramente che molti leghisti e molti esponenti di italia non li vorrei vedere nemmeno a cena è chiaro lo dico alcuni sì alcuni sono persone anche per bene in quei partiti ma ce ne sono altri che non sono per bene a me che renzi e salvini sono andati da verdini a trovarlo in carcere e poi hanno è caduto il governo per una mossa di renzi a me nessuno mi toglie dalla testa che questa mossa come dire è una sorta di patto di rebibbia come ho detto in televisione no verdini stare bibbia quei due vanno a rebibbia ci va berlusconi e poi ci va la santanchè ci va renzi ci va salvini e poi incredibilmente quello fa cadere il governo come mai io e noi con quelli però ci abbiamo governato ma perché ci abbiamo governato è andata bene o è andata male governare con quelli i risultati ottenuti hanno migliorato la vita delle persone sì o no sì abbastanza no potevamo fare di più certo gli altri se non ci fossimo stati noi al governo avrebbero fatto il reddito di cittadinanza no avrebbero fatto la spazzacorrotti no avrebbero fatto il decreto dignità no avrebbero tagliato i parlamentari no avrebbero tagliato i vitalizi no avrebbero fatto la riforma della prescrizione no la riforma delle intercessazioni no non avrebbero fatto una beata minchia del nostro programma ragazzi noi l'abbiamo ottenuto perché siamo andati a governare con loro è chiaro e se noi ci dimentichiamo questa roba qua siamo lontani dalla realtà ci possiamo raccontare davanti a una pizza o una birra con gli amici o a casa visto che non si può andare fuori adesso a cena ci raccontiamo che siamo migliori degli altri ma la vita ma poi a fine mese i soldi del reddito arrivano perché noi abbiamo fatto un governo con altri quando c'è palamara che parla al telefono di quelle cose lì il trojan è stato messo perché abbiamo cambiato quella legge sulle intercettazioni lo capite questo no se noi non avessimo fatto questa roba noi non avremmo avuto quelle riforme quindi vi prego vi prego ragioniamo su questa opportunità ma in maniera laica e intelligente non da talebani i talebani stanno in afghanistan e hanno distrutto l'afghanistan è chiaro noi non vogliamo distruggere l'italia la vogliamo migliorare va bene allora io adesso ho pochi minuti per voi cinque minuti cercando di rispondere a qualche domanda grazie a silvana di eni grazie ad anna maria biasco vediamo se c'è qualche domanda rispondo al volo gabriella conforte cioè l'alternativa è lasciare il governo a tutti gli altri sulla giustizia giustamente dice maricreo se proprio dobbiamo dire no lo dobbiamo fare dal primo momento fare governo con nessuno restare l'opposizione dice mino leva salvatore pistara che conosco non esistono giustificazioni per appoggiare un governo composto dai due mattei che hanno fatto cadere due nostri governi dice salvatore pistara e per carità questa è una obiezione che comprendo benimile dice dovete no se no un altro governo monti la mucchiata avrà più paura se noi denunciamo le loro porcate dall'esterno no su questa roba io non sono da benimile dice alle prossime elezioni se votiamo no prendiamo il 60 per cento no ragazzi questa mi sembra la fantasia di qualcuno la realtà è diversa si può votare no assolutamente degno ma non pensate che se votiamo no alle prossime elezioni prendiamo il 60 per cento vi ricordo anche che se andiamo al governo stiamo con personaggi che non amiamo come salvini eccetera 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 se andiamo all'opposizione stiamo con la meloni che non è proprio no una grillina di ferro e il partito dove ci sono stati più legami eh indagati arrestati per legami con l'andrangheta e fratelli d'italia se noi andiamo all'opposizione andiamo col partito dei legami di quelli che hanno legami con l'andrangheta con la mafia con eh organizzazioni criminali non solo al sud perché il presidente del consiglio comunale di piacenza di fratelli d'italia è stato condannato a 20 anni di carcere perché era legato organicamente alla camorra l'andrangheta un'organizzazione mafiosa è chiaro quindi non è che se andiamo là stiamo coi buoni e di là stiamo coi cattivi se andiamo all'opposizione stiamo con la meloni che non è proprio il partito diciamo che io ho sognato da bambino non 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 per varie ragioni allora Michele Taurisano dice una cosa che comprendo grazie ad Alessandro Mancuso se c'è qualche domanda fatemela al volo perché davvero devo staccare se domani si sveglia o Renzi o Salvini di tempo la colpa del governo Draghi sarà vostra dice Luigi Di Leo non lo so cosa significa non ho capito bene cosa vuoi dire cominciata la partita facciamo una cosa in base al risultato di stasera questo è quel mio amico Roberto Cosentino che cazzeggia meno male almeno c'ha voglia di scherzare anche in questi momenti potrei votare sulla piattaforma non so se votare sì o no dice che che lo diceva Salvatore D'Ambrosio voi le carte quando le vedete Salvatore io prima l'ho detto anche che prima voglio vedere il il quesito non possiamo lasciare adesso dice Giuseppe Toscano che saluto non siamo matti di tornare indietro all'ultimo cancello con Cettambra se si può avere voce perché non votare sì se noi dovessimo dire sì dice Lisa Morleale la Meloni direbbe no il contrario se dicessimo no la Meloni direbbe sì non ci credo questo Valentina Locci credo sia un momento in cui si debbano evitare le prese di posizione valutare con intelligenza vorrei sapere quando verrà cambiata la legge elettorale non avete pensato che questo avrebbe potuto fermare il vostro tempo chissà le concessioni autostradali bravo Vittorio Salvo questa è una cosa da chiedere togliere le concessioni ai Benetton questa è una cosa da chiedere su questo dobbiamo ragionare non sul sì no per dividerci e fare la lotta fra di noi allora solo stando al governo possiamo fare qualcosa altrimenti non faremo nulla ma cancelleranno quelle buone cose che abbiamo fatto sino ad ora Asia Santoro ma che c'entra Dino all'opposizione ci andiamo per conto nostro mica ci dobbiamo alleare insomma ci andiamo a mettere insieme però a Giorgia Meloni che è quella che vuole non vuole questo non vuole la nascita di questo governo vi informo subito che già Draghi non parla di mess nessuno parla più di mess già il fatto che noi potremmo entrare nessuno parla più di mess il mess se non ci fossimo stati noi al governo l'avremmo preso io ho detto le cose buone che abbiamo fatto spazzacorrotti di cittadinanza eccetera eccetera ma ci sono anche le cose cattive che non abbiamo fatto se non ci fossimo stati noi al governo sappiate che l'Italia avrebbe avuto il mess che era la condanna dell'Italia se non ci fossimo stati noi al governo e in Europa non ci fossimo mossi bene e Conte non si fosse mosse molto bene in Europa col cavolo che avremmo avuto i 209 miliardi ora li abbiamo ma chi li deve gestire noi o loro giustamente scrive Marco Aielli se vi dividete adesso infrangerete il sogno di tutti gli italiani onesti ha ragione Marco Aielli quindi in qualunque caso vi prego non facciamone una questione fideistica io se vinca il sì o che vinca il no non lascio il Movimento 5 Stelle perché io sono stato eletto grazie al Movimento 5 Stelle è chiaro va bene Alessandro Marulli mi scrive guarda Dino sono sempre stato d'accordo con quello che dici ma adesso ti stai arrampicando sugli specchi perché Alessandro che vuol dire arrampicando sugli specchi io sto dicendo le cose come stanno sto dicendo quali sono le ragioni per il no e quali sono le ragioni per il sì dove sono questi specchi io sono una persona trasparente ragazzi e non ho bisogno di fomentare e di aizzare nessuno io dico le cose che penso con la massima onestà intellettuale arrampicate sugli specchi le fanno gli altri vorrei sapere a proposito di onestà intellettuale come mai c'è chi ha tasciuto regolarmente sui traditori del Movimento che erano vicini a lui perché questa cosa qui questo fatto di parlare di alcune cose e non di altre anche quello mi ha un po' rotto i coglioni di accusare puntare il dito contro qualcuno ma quando sono le persone a noi a fare danni non si punta nessun dito io ero molto amico di Lorenzo Fioramonti come voi sapete amico personale diciamo al di là della della comune poi militanza politica quando Lorenzo ha lasciato il Movimento 5 Stelle ho detto che era un traditore e ribadisco che è un traditore perché Lorenzo avrebbe dovuto anche lasciare la poltrona di deputato non ho paura a dire che un mio amico si è comportato con il Movimento da traditore forse dovremmo averlo tutti questo coraggio e non fare i duri e i puri solo quando le cose solo su alcuni argomenti e su altri invece siamo distratti oddio mi è sfuggita questa cosa non va bene non va bene per un cazzo sono anche molto arrabbiato e poi vi saluto perché so che su rousseau votano persone che sono candidate in liste contro il Movimento 5 Stelle adesso farò una denuncia pubblica su questo perché il voto su rousseau è la democrazia diretta è il nostro pane quotidiano è il nostro faro la democrazia diretta e non esiste che il voto venga inquinato da gente che è candidata contro il Movimento in altre liste tuttora oggi così e poi voterà su rousseau e no il voto su rousseau deve essere di veri attivisti veri iscritti non di gente che è candidata con un'altra lista io purtroppo ho finito il mio tempo e vi mando un grande abbraccio spero di potervi aggiornare domani e dalle 21 avrò una grande incontro con migliaia di attivisti da tutta Italia a domani